Nel calcio odierno, abbiamo grandi attaccanti come Alland e Lewandowski, per esempio. Due nomi che, un tempo, erano solo giovani promesse, proprio come nel caso di Riccardo Pepi. Riccardo Pepi è un giovane attaccante americano che viene indicato come il nuovo Alland. Pepi ha 21 anni, è alto 1,85 m e attualmente gioca nel PSV, in Olanda. Il fatto è che gli occhi di Cristiano Giuntoli sono puntati su Riccardo Pepi, che sta valutando la possibilità di puntare sul giovane americano per prendere il posto di Milik. Eccellente visione da parte di Giuntoli. A mio parere, Riccardo Pepi potrebbe davvero rivelarsi una piacevole sorpresa per gennaio. Tuttavia, dobbiamo continuare a monitorare il suo rendimento nei prossimi mesi.